Ha destato clamore e non poche proteste l'installazione di un'antenna trasmettitrice lungo i tornanti di località foresta a Praia Mare. L'intera contrada praiese non solo ha gridato allo scempio per l'innalzamento di questo traliccio nel bel mezzo di un paesaggio di indiscutibile valore ambientale e culturale immortalato giornalmente da cittadini e turisti che lo attraversano. A farsi promotori della denuncia mossa dall'intera località praiese, ora sul piede di guerra Matteo Cassiano, amministratore unico dell'isola di Dino Club, è la proprietà e la gestione del castello di Praia Mare, rispettivamente Fiore Cosentini e Antonio Fittipaldi. Attestati di partecipazione alla protesta sono giunti anche su Facebook. È stato in maniera irrevocabile per il momento compromesso uno scenario che caratterizza, è possibile lì in giornate di particolare nitidezza, è possibile ammirare Capo Palinuro, quindi la Campania, il Cristo di Maratea e la Costa di Maratea e quindi la Basilicata, l'isola di Dino e l'isola di Strombolo e quindi la Sicilia. Io confido nelle istituzioni nel mantenere alta l'attenzione, alta l'attenzione perché è impensabile che noi dobbiamo assistere ad una condizione del genere. Quest'andenne è stata ubicata in un posto, io penso, poco idoneo, visto la struttura che domina sulla collina, che è il castello dei Normanni del XIII secolo. Io penso che questi posti rari ormai oggi, almeno nel sud Italia, dobbiamo tenerli custoditi nel migliore dei modi. Mettere quell'antenna lì significa un attimino rovinare l'angolo paesaggistico e culturale storico della nostra città. Poi chi di competenza sa se quell'antenna può restare o deve essere rimossa. Tutte le autorità proposte sono state allertate, urge trovare una soluzione alternativa. Infatti nessuno si è detto contrario all'installazione dell'antenna. Ad essere contestato è il punto scelto, sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale, che se dovesse essere confermato priverebbe Praia di uno spettacolo unico al mondo. Io non potevo essere omertoso in una condizione del genere perché amo il territorio e ho subito prontamente segnalato alla Procura della Repubblica di Paola, all'ARPACAL, alla provincia, al nucleo ambiente dei carabinieri, a tutte le autorità preposte affinché provvedano a trovare, a verificare prima di tutto se è mai possibile che in una zona di particolare notevole pregio ambientale possa essersi una condizione del genere e soprattutto se ci sono delle alternative. Per quanto mi riguarda, non è una presa di posizione per dire no alle antenne. No, non è questa la mia posizione. La mia posizione è quella di dire va bene l'antenna ma mettiamola oppure cerchiamo di trovare un contesto che non crea danno agli altri. Grazie.